Anche a Biella, così come in tutta Italia, cresce la preoccupazione nel mondo dell'edilizia. Non possiamo più attendere scherseggeno materiale, gli impianti di produzione stanno chiudendo. Occorrono immediate misure per calmierare i prezzi e per compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese. Altrimenti i cantieri della PNRR si fermeranno tutti, così il presidente Ance Biella, Francesco Panuccio. Negli ultimi giorni i prezzi dei materiali di costruzione, che già erano raddoppiati nell'ultimo anno, sono ulteriormente schizzati. E in particolare risultano irreperibili, se non a costi insostenibili, bitume, acciaio, alluminio. È chiaro a tutti che in assenza di contromisure come l'atteguamento automatico dei prezzi, a valori conrenti per tutte le stazioni appaltanti e anche misure efficaci di compensazione degli aumenti subiti, nessuna impresa sarà in grado di realizzare le opere che gli sono state commissionate e che di questo passo del PNRR non resterà che la carta, conclude il presidente dei costruttori. Siamo veramente molto preoccupati. Il settore stava vivendo una stagione di ripresa dopo più di un decennio di crisi e arretramento. Ne va dell'esistenza delle aziende, delle aziende della filiera e dietro un'azienda, ricordiavolo, ci sono sempre i volti e le storie di donne, di uomini e delle loro famiglie, ricorda ancora il presidente Panuccio.